Bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovissimo video, ma andiamo subito nel negozio oggetti a mettere immediatamente nel supporto un creatore già da oggi Però signori, mi raccomando, vi do 5 secondi, 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando, fate accettare, andate nel negozio oggetti e shoppate tutto! Oggi volevo mostrarmi i miei splendosi guadagni su YouTube, devo dire ho fatto i miliardi raga, tra un poco ho talmente tanti soldi che posso pure buttarli nel cielo No, comunque raga ho fatto tipo qualche milioncino e volevo aprirmi comunque una bella villa dei YouTubers e invitavo tutti i YouTubers e tutti i fan, tutti i centomila persone Ho qualche milione di supportatori e ho fatto raga, l'ho messo anche nel titolo, non so se farvi vedere questo grande guadagno, ma vabbè forse mi bannano Però comunque ve lo farò vedere, non lo so, forse nel video, in qualche secondo, non lo so, comunque andiamo un attimo a chiedere il parere a alcune persone che qua mi stanno invitando in centomila Aspetta, aspetta, vediamo un attimo, vediamo che stima fanno per quanto io guadagno con il supporto un creatore, andiamo da lui, dai, pronta, pronta, mi senti? Sì Posso farti una domanda tipo al volo, tu sai cos'è un supporto un creatore? Sì Secondo te quanto guadagno? Cento Cento cosa? Milioni? Euro Cento euro? Centomila euro? Sì Ok, lo vedrai oggi sul video Chi è Gio? Pronto, posso chiedervi una domanda? Oddio, è l'allievo di Orti Sì, sono io, posso chiederti una domanda? Ma chiedo? Posso farti una domanda? No Una domanda del supporto un creatore? Secondo te quanto guadagno io con il supporto un creatore? Tre milioni Quanto? Tre milioni di milioni Tre milioni di milioni Sì, le stede dei negroni Peppe, vediamo questo Peppe, vai Entro subito Pronto? Pronto Ciao Giovan Fra C'è un po' di rumore C'è una partenza di elicottero Sai cos'è un supporto un creatore? Sì E utilizzi Gio 12 Pro? Sì Quanto guadagno? Secondo te Aspetta Ma secondo me è 50 euro 50 euro? Di più? Ma è 2 milioni? Di più? 2.500? Sì Prendo questa cifra L'ultimo, l'ultimo e basta perché poi le persone poi si arrabbiano Aspetta facciamo l'ultimo Chi mi fai? Chi mi fai? Chi mi fai? Tu ovviamente utilizzi il codice Gio 12 Pro Secondo te quanto guadagno? Al mese Si danno tipo 20 euro al mese Minimo 20 euro? Non prendo 20 euro No, di milioni Prendo milioni No, di milioni Prendo milioni Ah, 2 milioni 2 milioni Forse devo sono arrivato al momento della rivelazione Però aspetta quasi quasi Vi faccio vedere intanto una bella cosa Intanto nel supporto un creatore Dato che prendo i milioni Dovete mettere Gio 12 Pro Così prendiamo ogni persona e un milione E chiediamo l'ultima persona per curiosità Poi basta Pronto? Sì, pronto Raga, posso farvi una domanda al volo? Ciao Vai Allora Sì, sì, bella Allora Ok, adesso Mi sentite tutti e tre, giusto? Sì Ok Voi sapete cos'è il supporto a un creatore, giusto? Yes Secondo voi Adesso Tutti e tre Tutti e tre Uno alla volta Ditemi quanto guadagno Secondo voi Boh, uno Un milione Poi Gli altri due cosa rispondono? Ah, ma sei live? No Però volevo farvi sta domanda Ah, ok Perché Tre milioni Tre milioni Ci vediamo sul video di oggi Aiuto, 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 aiuto Mi fate smattare Adesso, signori, è il momento della rivelazione più assoluta Ed ecco qui i miei guadagni Allora Praticamente quasi un milione di sostenitori Quasi due milioni di entrate Signori, attenzione Mi raccomando Giado di Cipro Il mese scorso mi hanno pagato quasi due milioni Abbiamo fatto in totale sei milioni Signori Finalmente siamo diventati ricchi Adesso mi raccomando Potete mettere Giado di Cipro Così io divento sempre più ricco E voi sempre più poveri Quindi signori Mi raccomando Lasciate un bel like E continuate a shoppare Così arriveremo a 5, 6, 7, 8 milioni di dollari Quindi mi raccomando Giado di Cipro Noi ci becchiamo Alla prossima Un bel Signori La dura verità È che non riusciamo a fare neanche 3-4 euro Quindi V'ho trollato Vabbè Era proprio Era impossibile da crederci Come fai a dire due milioni Eh Due milioni Eh Adesso guadagliano tutti con il supporto Va beh Signori Volevo fare qualcosa di diverso Comunque tutto ironico